Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Elisa e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se questa tipologia di video vi può interessare assicuratevi di iscrivervi al canale altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per la storia di oggi ci troviamo a Valley Cottage, una piccola cittadina proprio di fronte alla famosa città di Sleepy Hollow vicino a New York. In questa cittadina vivono quasi 9000 persone tra cui l'ottantenne Peggy Nadel. Peggy nacque e studiò a Brooklyn dove conobbe poi anche quello che diventerà il suo futuro marito ovvero Rob Nadel. I due si innamorarono follemente, si sposarono ed ebbero anche due figli, la più grande di nome Susan e il più piccolo di nome James. Una volta che i due figli raggiunsero entrambi l'età scolare e fino a quel momento Peggy era stata a casa, si era occupata a tempo pieno della casa e dei figli, quindi quando entrambi i bambini iniziarono a frequentare le scuole Peggy decise di ritornare lei stessa a studiare per provare ad avere quello che era il lavoro dei suoi sogni. Peggy infatti prese un diploma ed iniziò a lavorare per un'azienda chiamata Zero, non so se la pronuncio giusta, comunque era un'azienda in realtà molto conosciuta al tempo di fotocopiatrici ed erano in realtà quanto pare, non dico gli inventori delle fotocopiatrici, però era l'azienda sicuramente più conosciuta che vendeva e produceva fotocopiatrici. A quanto pare Peggy era particolarmente brava nel suo lavoro perché in pochi anni raggiunse la posizione diciamo professionale più alta nel suo reparto e iniziò a fare un bel po' di soldi. Nel frattempo che Peggy viveva da grande donna in carriera, i figli ovviamente erano cresciuti, si sposarono, Susan si sposò con un uomo di nome Bobby mentre James si sposò con una donna di nome Diana e James e Diana tra l'altro ebbero anche due figli mentre Susan e Bobby non ebbero mai figli. All'età di 70 anni Peggy andò ufficialmente in pensione ed era pronta a godersi la pensione insieme a suo marito. Purtroppo però lo stesso anno in cui andò in pensione Peggy, Rob ebbe un attacco di cuore e purtroppo morì. La morte di Rob fu un duro colpo per Peggy, erano sempre stati inseparabili, erano sempre stati la coppia perfetta anche da sposati, anche con i figli. Rob era sempre stato il suo più grande sostenitore soprattutto nella sua carriera quindi sicuramente c'era un legame davvero profondo tra i due e sicuramente Peggy patì molto la morte di suo marito. Dopo essersi ripresa dal lutto Peggy comunque si trovava con un sacco di soldi, davvero un sacco di soldi sia della sua pensione sia di quello che si era riuscita a mettere da parte durante la sua vita. Quindi decise di vendere la casa di famiglia a Brooklyn e di comprarsi in una più piccola a Valley Cottage dove risiederà fino alla sua morte e decise di prendersi un po' di tempo per girare il mondo, per viaggiare. E durante i suoi viaggi iniziò a diventare una vera e propria attivista, sposò un sacco di cause nel quale credeva veramente, fece un sacco di donazioni, partecipò a un sacco di manifestazioni e fu anche abbastanza investita nella politica locale. Peggy aveva un bellissimo rapporto con entrambi i figli, aveva sempre ad esempio aiutato James anche economicamente che a quanto pare aveva avuto più di una volta qualche problema economico nel mantenere i suoi figli. Peggy era sempre stata in prima linea per aiutarlo, per fargli qualsiasi tipo di prestito o di regalo di cui avesse bisogno. Con Susan invece aveva quasi forse un rapporto ancora più stretto se possibile. Le due parlavano tutti i giorni anche durante i vari viaggi nel mondo di sua madre. Susan pretendeva di avere una sorta di appuntamento telefonico con sua madre, a qualsiasi ora del giorno della notte la madre potesse. Un giorno era il 25 gennaio 2014, Peggy e Susan avevano il solito appuntamento telefonico quella mattina. Peggy in quel periodo si trovava a casa sua in Valley Cottage e si stava preparando per intraprendere un altro viaggio in giro per il mondo. Quel giorno però Peggy non rispose al telefono ed era qualcosa di estremamente inusuale per lei. Solitamente rispondeva sempre alle chiamate, non c'era mai un momento in cui non avesse il cellulare dietro. Quindi Susan iniziò un pochettino a preoccuparsi, provò anche al numero fisso dell'abitazione di Peggy però nessuno rispose. Susan decise di aspettare qualche ora e chiamò anche Diana, la moglie di suo fratello James, per sapere se l'avesse sentita e Diana disse che aveva provato in realtà a chiamarla quella mattina presto che però nessuno aveva risposto. Passarono le ore e Susan si stava iniziando davvero a preoccupare tanto che decise di prendere la macchina e recarsi direttamente a casa di sua madre per vedere che fosse tutto ok, che non fosse successo niente di grave. Una volta arrivata davanti all'abitazione di Peggy Susan notò subito la macchina della madre nel vialetto quindi si affrettò ad andare verso la porta di casa e notò che era chiusa ma non a chiave quindi riuscì ad entrare e purtroppo si trovò davanti ad una scena davvero cruenta. Il corpo di Peggy si trovava per terra proprio davanti all'ingresso ai piedi delle scale ed era completamente ricoperta di sangue. A primo sguardo poteva sembrare che la donna fosse caduta semplicemente dalle scale però in realtà Peggy aveva un coltello piantato nel petto. Ora so che la maggior parte delle persone compresa me stessa se mai si dovesse trovare in una situazione del genere la prima cosa che penserei è omicidio ovviamente con un coltello piantato nel petto. Per qualche motivo però Susan da subito si convinse del fatto che si trattasse di un incidente. Pensava che magari la madre potesse essere in cima alle scale con un coltello in mano che fosse inciampata e quindi di conseguenza fosse caduta dalle scale infilzandosi con il coltello. Questo è il diciamo la rappresentazione degli eventi che si era fatta da subito Susan. Susan appena vista la scena fece l'incauta decisione di togliere il coltello dal petto della madre cosa che inquina di conseguenza le poche prove che si hanno in questo caso e iniziò a fare le manovre di rianimazione che però purtroppo non serviranno a niente. Quando la polizia si recò sulla scena del crimine fu evidente da subito a tutti che non poteva per forza trattarsi di un incidente. La donna infatti prima di essere stata colpita col coltello era stata anche colpita più volte e strangolata. La collutazione era iniziata evidentemente dalla camera da letto al piano superiore, era continuata sul pianerottolo delle scale ed era terminata proprio all'ingresso dove è stato poi ritrovato il corpo. Dalla casa mancavano all'appello il computer di Peggy, la sua borsa con all'interno il portafoglio e il suo telefono cellulare e alcuni gioielli molto preziosi che aveva Peggy. Nonostante mancassero queste cose la polizia in realtà non pensò neanche un secondo che si potesse trattare di una rapina, questo perché in realtà in tutta la casa sembrava proprio che qualcuno avesse tentato di posizionare le cose per far credere alla polizia che si trattasse di una rapina, quindi c'erano ad esempio i cassetti aperti però nessuno aveva frugato nei cassetti, c'erano anche di nuovo gli sportelli dei mobili aperti ma nessuno aveva toccato quello che c'era all'interno. In più una cosa molto particolare è che sul bancone della cucina c'era tutto apparecchiato e delle tazze come se qualcuno dovesse prendere il tè. In più non c'erano segni di scasso da nessuna parte e anzi la porta era stata aperta dall'interno e le chiavi di Peggy erano ancora inserite nella serratura interna della porta. L'investigazione è ancora in sua nascenza, tutto che possiamo rilasciare a questo punto è che stiamo rilasciando la morte di una femmina 81 anni, Peggy Nadell, che vive a 6.44 in Over Road in Valley Cottage. L'investigazione è ancora in sua nascenza, quindi questa è tutta l'informazione che possiamo rilasciare a questo punto. La prima ad essere al centro del mirino dei detective fu Susan, questo perché sicuramente la donna non era in una buona posizione perché innanzitutto questa strana spiegazione che si dette della vicenda stonava, non era normale pensare che fosse più plausibile un incidente del genere, che fosse stato invece un omicidio. Quindi decisero di interrogare Susan, la quale disse di non essere in alcun modo collegata a quanto era accaduto alla madre e in più segnalò ai detective che in realtà nei giorni precedenti alla morte di sua madre un team di muratori stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione all'interno proprio della casa di Peggy, quindi Susan suggerì che iniziassero a cercare il colpevole magari da lì e non da lei stessa. La polizia nel frattempo era alla ricerca di un movente da poter collegare a Susan e effettivamente lo trovarono. Peggy come vi dicevo era davvero molto ricca, ma davvero molto ricca, non comunemente ricca. Aveva infatti messo da parte un bel po' di soldi e tra soldi sul conto e proprietà avrebbe lasciato ai suoi figli ben 4 milioni di dollari. Quindi capirete che sicuramente le cose non si stavano mettendo bene per Susan, era sospettata, aveva inquinato le prove, dava una spiegazione del tutto incredibile della situazione e in più dalla morte di Peggy avrebbe guadagnato ben 2 milioni di dollari. Susan in ogni caso assunse un avvocato ovviamente per difendersi e comunque queste prove che aveva la polizia non erano abbastanza per un arresto, quindi la polizia continuò con le indagini. Controllando i tabulati telefonici di Peggy, la polizia scoprì che la mattina del giorno in cui venne uccisa Peggy, all'1 e 17 del mattino, una chiamata era arrivata al numero fisso di Peggy. Indagarono su questo numero telefonico e scoprirono che arrivava da un telefono prepagato, quindi non era nominativo, cioè non era riconducibile a nessuna persona e in più non poteva essere localizzato. Un'altra cosa strana venne fuori che a pochi minuti da questa chiamata all'1 e 17 del mattino, l'antifurto che Peggy aveva installato nella sua abitazione era scattato. Questo antifurto era collegato ad un'azienda di sicurezza che praticamente, io non ho mai avuto un antifurto in vita mia, però penso che sia abbastanza come funzionano tutti gli antifurti. Questo antifurto era collegato appunto a questa azienda che una volta ricevuto l'allarme chiamava le persone, i proprietari, per sentire se fosse tutto ok, magari l'antifurto era scattato per sbaglio, oppure se nessuno rispondeva chiamava direttamente la polizia. Ecco, in questo caso quindi l'antifurto di Peggy era scattato, l'azienda aveva chiamato Peggy, Peggy aveva risposto dicendo di essersi sbagliata, aveva dato il codice di sicurezza, perché ovviamente come fosse una sorta di parola d'ordine per assicurarsi che andava tutto bene e aveva detto, appunto, scusate, è partito per sbaglio. L'ipotesi della polizia a questo punto era che effettivamente l'antifurto fosse scattato per sbaglio, nel momento in cui però Peggy a tarda notte aveva fatto entrare qualcuno in casa. Evidentemente Peggy conosceva le persone che erano entrate in casa, questo perché in primo luogo le aveva fatte entrare, in secondo luogo aveva detto la parola di sicurezza alla signora che aveva chiamato dall'azienda di sicurezza, quindi non era in allarme, e in terzo luogo si erano bevuti insieme del tè o comunque aveva preparato del tè per loro. La polizia quindi controllò l'arribi di Susan per quella notte ed effettivamente Susan era rimasta a casa sua e non c'era uscita prima del pomeriggio per andare a controllare sua madre. Un'altra persona però avrebbe beneficiato dalla morte di Peggy ovviamente, il fratello di Susan, James. James a quel tempo viveva in Florida con sua moglie Diana e i suoi due figli e a quanto pare, una volta verificati gli alibi, James si trovava effettivamente a casa sua in Florida, quindi molto lontano da tutto quello che era appena successo. La moglie Diana invece era a un matrimonio a Washington, quindi di nuovo abbastanza lontano da dove viveva Peggy. Controllarono i tabulati telefonici sia di Diana che di James e se dal tabulato telefonico di James non venne fuori niente di strano, in quello di Diana invece qualcosa di sospetto c'era. La donna infatti il 24 e il 25 gennaio, ovvero il giorno prima e il giorno della morte di Peggy, aveva fatto un sacco di chiamate dal suo telefono che si trovava a Washington e aveva fatto tante chiamate ma proprio tantissime in più del solito, in più, anzi in particolare, ad alcuni numeri che di nuovo ricondurranno a dei telefoni prepagati, quindi di nuovo non localizzabili e non nominativi. La polizia decise quindi di interrogare Diana e le chiesero appunto qualche dettaglio sulle giornate che a detta sua aveva passato a Washington. Diana non riuscì bene a ricostruire quei giorni, disse di non aver incontrato nessuno, di non aver parlato con nessuno, di non aver fatto niente di particolare, se n'era stata praticamente sola soletta tutto il giorno a Washington. Ora la polizia decise di indagare un pochettino su questi numeri prepagati, dato che comunque ad aver chiamato all'1.17 a casa di Peggy era stato proprio un numero prepagato. Ora io non avevo idea però questi numeri non sono rintracciabili, non puoi diciamo se c'è una chiamata non puoi rintracciare da dove è stata fatta quella chiamata, non si attaccano immagino come fanno gli altri telefoni ai ripetitori, però si può risalire al momento e allora proprio è il posto in cui quel telefono è stato comprato e in più una volta che uno sa in che negozio è stato comprato e a che ora può utilizzare le videocamere di sorveglianza per vedere chi l'ha comprato effettivamente e questo è proprio quello che fece la polizia e a quanto pare tutti e tre i numeri prepagati quindi sia quello che aveva chiamato casa di Peggy sia i due che aveva contattato Diana durante il suo soggiorno a Washington risalivano tutti ad un posto a un negozio che guarda caso era proprio in Florida a due isolati da dove abitavano Diana e James. La polizia pensando di aver beccato Diana sul fatto decise di recarsi a questo negozio e di richiedere le videocamere di sorveglianza, però dalle videocamere di sorveglianza non si vide Diana comprare questi telefoni bensì un'altra donna di nome Karen Samuels. Karen Samuels, un'altra mega coincidenza, era una conoscente di Diana e guarda caso il giorno prima della morte di Peggy Diana aveva chiamato molte volte il numero di Karen. Il numero di Karen infatti appariva moltissime volte nei tabulati telefonici il giorno prima della morte di Peggy. Non fu però questa Karen ad attivare i numeri prepagati perché lo fece un'altra donna ancora di nome Andrea Benson e di nuovo coincidenza, quante coincidenze in questo caso, a quanto pare il giorno prima della morte di Peggy Diana aveva chiamato un sacco di volte anche Andrea. Quindi a questo punto la polizia sapeva che Diana era in qualche modo collegata all'acquisto di questi tre numeri prepagati tra cui quello che aveva chiamato all'1 e 17 la casa di Peggy e sapeva che il giorno prima della morte di Peggy era stata molto in contatto con queste due persone direttamente collegata ai numeri. Il movente ovviamente in quanto moglie di James anche lei avrebbe beneficiato dei due milioni che aspettavano a James. Il giorno prima della morte di Peggy Diana si recò in aeroporto per andare a Washington e qui le telecamere di videosorveglianza la ripresero mentre incontrò Andrea Benson. A quanto pare anche Andrea sarebbe dovuta andare al matrimonio a Washington e a Washington c'era anche Karen, l'altra donna. Sia Karen che Andrea testimoniarono che Diana si trovava al matrimonio lì con Laura Washington il 24 e il 25 di gennaio. Da quanto aveva visto la polizia anche il telefono di Diana era a Washington perché si era collegato appunto alle celle telefoniche quindi erano sicuri che almeno il telefono di Diana fosse a Washington ed è in realtà proprio quello che è successo. Pian piano in particolare Karen e Andrea iniziarono a parlare, pian piano iniziava a spuntare diciamo un nuovo indizio, una nuova cosa che non avevano detto prima. Le donne a quanto pare avevano comprato i tre telefoni, i tre numeri prepagati per comunicare le une con le altre senza utilizzare i loro telefoni. Inoltre da alcune telecamere di sorveglianza che trovarono i poliziotti a Washington videro che Andrea e Diana scesero dall'aeroporto, arrivarono in hotel evidentemente lasciarono i loro telefoni e poi se ne andarono. Il 14 maggio Diana e Andrea vennero ufficialmente arrestate e diciamo che a questo punto Andrea iniziò a parlare. Innanzitutto al contrario di quanto aveva sostenuto Diana all'inizio, Diana e Andrea non si conoscevano prima di quel giorno in aeroporto, non erano amiche di lunga data, non si erano mai sentite né viste prima. Le aveva presentate reciprocamente Karen, l'altra donna, e a quanto pare Diana era andata da Karen dicendo di aver trovato un modo per farsi due milioni facili facili e che per farlo però avrebbe avuto bisogno di una persona che non si fosse fatta molti scrupoli a mentire alla polizia, qualcuno che l'avrebbe aiutata in quello che doveva fare e che le avrebbe pagato ben 10.000 dollari. Karen le disse guarda non me la sento io ma conosco qualcuno che sarebbe disposta a farlo per 10.000 dollari e fu così che le passò il numero di Andrea. Come vi ho già detto le due una volta incontratesi all'aeroporto andarono a Washington, lasciarono i loro cellulari in hotel, affittarono una macchina per tornare indietro e fermarsi a Valley Cottage dove abitava Peggy. A Valley Cottage avevano attivato il numero prepagato che avevano poi usato per chiamare il numero fisso di casa di Peggy all'1.17 del mattino. Questa chiamata in realtà non aveva un fine effettivo se non quello di capire se la donna fosse effettivamente a casa a quell'ora. Peggy era a casa ovviamente stava dormendo e a quel punto sia Andrea che Diana si presentarono alla porta di Peggy. Peggy probabilmente ci rimase un po' stranita insomma di trovarle a quell'ora a casa però le aprì in fondo era la moglie di suo figlio magari aveva bisogno di qualcosa magari era un'emergenza. E a questo punto che scatta l'antifurto Peggy nella fretta di cercare di capire chi fosse all'uscio della sua porta poco dopo l'1 del mattino aveva aperto molto in fretta senza togliere l'antifurto quindi era scattato l'antifurto era arrivata la chiamata Peggy li aveva rassicurati e una volta messo giù il telefono con la signora che l'aveva chiamata dall'azienda di sicurezza aveva preparato un tè per le sue ospiti si erano messe a chiacchierare poi per qualche motivo era salita in camera da letto e lì l'avevano raggiunta le due donne per ucciderla. Diciamo la dinamica in realtà già la sappiamo dalla scena del crimine la collutazione era partita dalla camera da letto era continuata sul pianerottolo ed era terminata ai piedi delle scale probabilmente vi sorgerà una domanda che mi sono fatta anche io perché voglio dire era già sposata con James prima o poi Peggy sarebbe morta come tutti perché fare una roba del genere a una donna di 80 anni invece che semplicemente se hai bisogno di soldi stare zitta e ferma bene a quanto pare questa domanda se lo fece anche la polizia e venne fuori che in realtà il rapporto tra James e Diana non era proprio dei più idilliaci quindi magari la donna aveva paura che l'uomo chiedesse il divorzio una volta divorziati lei non avrebbe preso più niente in più la donna aveva anche qualche debito il che poteva essere qualcosa che aveva spinto la donna a compiere un'azione del genere Karen Samuels non venne incriminata di niente perché in fondo aveva semplicemente comprato dei numeri prepagati a quanto pare non o non sapeva niente di quello che doveva succedere o comunque non hanno trovato prove che la collegassero alla cosa quindi Karen Samuels non fu mai accusata di niente in tutto questo anche voi vi starete chiedendo ma James il figlio di Peggy possibile che non sapesse niente a quanto pare no non trovarono prove contro di lui sicuramente a mio parere può valer la pena indagare sul suo conto però alla fine siamo ovviamente tutti fortunatamente innocenti fino a prova contraria quindi di prove contro di lui non ce n'erano chiusa lì non è mai stato ovviamente accusato giustamente non è mai stato accusato di niente Andrea Benson al processo si dichiarò colpevole e la condannarono a un minimo di 20 anni di prigione dopo i quali avrebbe potuto chiedere la libertà condizionata Diana invece si dichiarò non colpevole però ci fu diciamo un po' un colpo di scena a questo punto Diana nonostante si fosse dichiarata non colpevole all'inizio del processo per la durata di tutto il processo sarebbe dovuta rimanere in prigione e qui Diana decise di chiedere a un'altra signora che era in prigione come lei di chiedere a un'altra persona fuori dalla prigione di uccidere Karen Samuels e questo è uno dei motivi per cui credo che Karen sapesse di più di quanto non è venuto fuori perché altrimenti perché motivo Diana l'avrebbe voluta morta in ogni caso a Diana fortunatamente andò male perché la detenuta alla quale fece questa domanda lo disse subito alla polizia quindi la polizia decise di microfonarla e farla riparlare con Diana in modo da avere una registrazione di questa cosa. A questo punto Diana decise di dichiararsi colpevole per evitare la pena di morte dato che ormai era abbastanza chiaro che fosse coinvolta nella cosa e venne quindi condannata all'ergastolo. Dopo la sentenza Susan Nadel la figlia di Peggy ebbe la possibilità di parlare di leggere una lettera che aveva scritto proprio a Nadia e ovviamente come comprensibile Susan era estremamente arrabbiata e indignata con Nadia non solo per il fatto che chiaramente aveva ucciso sua madre ma anche per il fatto che questa donna poverina va passato alle pene dell'inferno all'inizio per i primi periodi delle indagini in quanto tutti pensavano che fosse stata lei. Anche Bobby il marito di Susan perse un po' le staffe durante il processo tanto che dovettero allontanarlo dall'aula del tribunale. E così si conclude anche questa storia Nadia passerà il resto dei suoi giorni in prigione come giusto che sia. Fatemi sapere come al solito cosa ne pensate di questo caso qua sotto nei commenti mi fa sempre piacere vedere cosa pensate rispondervi se posso e aprire dibattiti nell'ultimo video ne sono nati un po' cioè in realtà l'ultimo video in questo momento che sto filmando il video in realtà sarà già vecchio quando guarderete questo video. In ogni caso spero che il video vi sia piaciuto se così fosse assicuratevi di iscrivervi al canale. Come al solito grazie per essere arrivati fino a questo punto del video per la storia di oggi era tutto noi ci rivediamo con il prossimo caso.